Mirko, per una volta non è bastato soltanto un gol, avete fatti tre, è arrivata una vittoria, peraltro sofferta soprattutto per il primo tempo. Sì, sì, una vittoria sofferta, siamo contenti proprio perché insomma, per quanto mi riguarda io l'ambiente lo conosco benissimo, venire a vincere a Giulianova non è facile, non sarà facile per nessuno. La partita è stata dura, lo sapevamo, perché loro hanno preso grande ritmo fin dall'inizio, in questo campo quando riesce a dare intensità per gli avversari diventa difficile anche poter provare a impostare una gara. Siamo stati bravi nel sfruttare gli episodi e abbiamo cercato da squadra esperta di far passare momenti difficili cercando di non subire. Poi dopo forse un po' gli episodi, un po' l'esperienza nostra, siamo riusciti insomma la partita a farla andare per il verso giusto, insomma dalla nostra parte. Vedi una L'Aquila in crescita anche alla luce appunto di questo risultato, del fatto che gli attaccanti iniziano a produrre, domenica scorsa ha segnato Pianesa ad esempio. Sì, sì, ma l'Aquila è in crescita, è un campionato difficile dove comunque partite semplici non ce n'è per nessuno, le squadre voglio dire sono organizzate, ecco noi siamo una squadra pratica, siamo una squadra che badiamo forse una squadra esperta e lì cerchiamo insomma di tante volte, tanta a casa conta il risultato insomma alla fine di quello. Poi se ogni tanto uno riesce ad abbinare voglio dire anche un bel gioco, è tanto di guadagnato che lo ci proviamo, però oggi insomma sapevamo e venire qua, esprimere un calcio champagne non è facile perché ci sono gli avversari, Giulianova è una squadra che corre tanto, è una squadra di ragazzi che ti viene a aggredire da tutte le parti, però credi secondo tempo per un quarto d'ora, venti minuti, quando ci è stata data la possibilità che i ritmi sono calati, l'Aquila ha fatto girare bene anche la palla, insomma. Sta una partita difficile, poi nel calcio sapete meglio di me gli episodi, quando riesci a indirizzarla da una parte, voglio dire, è andata bene a noi, bene così.